qui abbiamo il concorrente gianluca con il suo piatto a un attimo quando il concorrente rino con un secondo piatto un secondo piatto vado a fare una gara vediamo chi finisce per prima pronti patella il piano non non c'è un quarto non c'è non c'è non c'è ciao ma l'ho vinto ma l'ho vinto ma che figo ahahah ahahah Sigh 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 Boggeyman Dino Voi metti le boogieman Non, un po' È fatto L rak Ahahahah Ehiah Ahahahah 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 mia ma io non mi chiamavo e ne vogliamo fare un applauso a Rino e ne volava fare